Oggi abbiamo parlato di contratti a rendimento energetico garantito e di come farli alla luce del nuovo codice appalti, delle regole europee e dell'evoluzione della giurisprudenza. La questione è complessa e in ogni caso il cambio di paradigma è da comprare cose, da comprare opere, cosa a cui i comuni sono abituati da decenni, dobbiamo imparare a comprare risparmio. Comprare risparmio energetico è un nuovo mestiere che qualche comune sta cominciando a fare ed è l'unico modo che abbiamo per rendere la riqualificazione energetica degli edifici pubblici non un episodio nell'ambito di un mandato amministrativo ma un'azione continuativa.